questa di don giuseppe la storia vera barroco qui alla dozza più non c'era ma il vescovo lo vide così bello disse ora ti sistemo mio fratello giovanni pensionato con onore se l'è squagliata andando a crema al cuore ti mando con lo spirito è una sporta la zona pastorale alla tua porta la gente che diceva ma che bello della militazione lui è un fratello loro ti seguivano con grande attenzione quando tu proclamavi dall'ambone la gente ci metteva quel giorno andando alla messa rimasi turbato perché io mi aspettavo giovanni ed invece lì c'era scime tutte le volte che il bardo sento cantar penserò giuseppe ora c'è è dovuto venire perché qui di preti ormai pochi ne sono rimasti perciò tocca a te giovanni dove dalla dozza è scappato perché lui voleva tornare in campagna dov'era quell'altro scime vent'anni che sono arrivati alla dozza e i fratelli sono qui ma giuseppe col suo dottorato di studio sognava a morire, ma il vescovo l'ha comandato, ti cambio di sede perché mi sembra sia giunto il momento di avere un po' pace per te. Giuseppe, esci me, ti ho mandato alla dozza perché non volevo che tu a Sant'Egidio restassi a soffrire per me. Mio caro usci me, io ti mando alla dozza perché là c'è gente un po' strana e bislacca che ha un grande bisogno di te. Tranquillo, esci me, che ti voglio già bene perché loro sanno che quella parola è molto importante per te. Giuseppe, esci me, ti vogliamo un gran bene perché tutti i giorni di quella parola ci parli e ci spieghi il perché. Io mi chiamo Giancarlo Giuseppe e qui della dozza son parroco in E. Io mi chiamo Giuseppe Giancarlo Patristi che insegno dal 93. Ma c'è il tesimo streaming che faccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna c'è il vespro virtuale Massetto Papale, lo prego con te. Tutto il giorno su incollegamento lo streaming lo sento un po' stretto per me. Tutte l'ora è costa fetenzia, dimmi mamma mia che palla che è. Ma alla fine Massetto Papale mi rilasso e mi leggo mi sale. Mi consiglio con il Padre Eterno mi spiega che penso e poi prego per te. Oh che bello scimè, la parrocchia sui generi c'è. Caricetta che il vescovo zuppi un po' fuori di testa ha pensato per te. Oh che bravo scimè, ha bisogno del meglio che c'è. E per questo lo Spirito Santo in compagno di viaggio ha mandato qua a te. Oh Giuseppe e scimè, siamo briganti, fettenti e lacche. Ma compagni di viaggio e tu sai che viaggio noi stiamo facendo con te. NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Grazie a tutti